Amici sportivi tifosi del Bari, ben trovati a questo nuovo appuntamento con il bianco e rosso TB Sport, puntata che non potrà andare in onda per questioni organizzative nella sua formula classica e tradizionale, siamo qui comunque ad aggiornarvi delle ultime notizie di mercato per quel che riguarda il Bari, ma anche delle notizie relative alla preparazione della sfida di sabato al San Nicola contro il Palermo nel primo anticipo di Serie A delle 18 e anche per quel che riguarda le notizie relative alle altre squadre del capoluogo barese di altre discipline. Per quel che riguarda il mercato, la notizia è arrivata ieri sera, lo scambio tra il Bari e il Torino che peraltro era nell'area ormai da tempo, Antonelli è finito in maglia granata, il Bari è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto Marco Pisano, classe 81, terzino sinistro impiegabile anche nel ruolo di centrale difensivo, quindi una pedina importante per lo scacchiere di Ventura che si trova adesso a dover fare i conti con le defezioni di Ranocchia e Parisi, le defezioni lunghe di entrambi. Pisano è un giocatore che potrebbe consentire a Ventura di far avanzare a centrocampo Salvatore Masiello in modo tale da poter sfruttare la spinta di entrambi sulla fascia sinistra o potrebbe eventualmente alla bisogna essere utilizzato anche al centro. La notizia negativa riguarda Alessio Cerci, l'esterno della Roma, si può parlare ormai di una fumata grigionera se non proprio del tutto nera perché il giocatore non ha ancora rinnovato il contratto con la Roma, non c'è stato l'accordo tra il suo procuratore e il DS Pradè, quella era la condizio sine qua nonna finché il giocatore potesse approdare al Bari, peraltro però c'è da registrare anche un certo ostruzionismo da parte di Ranieri che di recente ha utilizzato e impiegato per uno scampolo di partita il giocatore in Coppa Italia con il Catania, ottenendone grandi risultati e grandi risposte allo stesso giocatore, quindi probabilmente Ranieri anche per effetto della difezione di Toni, anche se i due giocatori ovviamente non sono dello stesso ruolo ma giocano entrambi nel reparto offensivo, potrebbe voler tenersi il giocatore per pararsi un po' in presenza di talune emergenze. Per quel che riguarda appunto dunque quel ruolo, il ruolo di esterno sinistro fortemente voluto e fortemente richiesto, Pedina fortemente richiesta ad avventura, c'è appunto da coprire una falla in questo momento, si fa il nome di Sestu della regina, per il momento appunto il Bari è molto probabile che domenica, anzi sabato dovrà fare con quello che c'è provando appunto a utilizzare i giocatori che sono un attimino più freschi, probabilmente ci sarà ancora spazio per Coman, probabilmente Alvarez che non è nelle migliori condizioni ma al momento forse è quello che dà maggiori garanzie a Ventura. Si fa un gran parlare anche di un difensore, un innesto straniero per la difesa, Luis Felipe, 22 anni del National Maideira, campionato portoghese, in quel caso però c'è la concorrenza del Cagliari, per quel che riguarda il mercato in uscita saranno giorni importanti, alla stessa maniera per il detto dalla partenza di Antonelli, Volpato è vicinissimo al Gallipoli, se non di Volpato al Gallipoli, poi in partenza c'è sempre Paro che è richiesto da Triestina e Piacenza, c'è uno tra Greco e Sforzini, partiranno sicuramente, c'è buona parte delle squadre di Serie B che puntano in alto sulle tracce di entrambi gli attaccanti, per Greco ci sarebbe il Cesena e il Mantua, per Sforzini c'è l'Empoli dell'ex tecnico Campilongo, c'è la volontà anche di piazzare Langella, solo che Langella è stato proposto al Catani in uno scambio con Terlizzi e anche alla Regina, ma in entrambi i casi forse anche per l'ingaggio un po' elevato dell'esterno del Bari, gli affari non sono andati a buon fine. Per quel che riguarda il notiziario del Bari dobbiamo annotare importanti notizie, l'emergenza è finita e rientrata in un sol giorno per quel che riguarda l'infermeria barese perché ieri nella doppia seduta di allenamento si sono allenati regolarmente al Miron, Barreto e Greco che erano alle prese con una serie di acciacchi, sicuramente salterà la partita di sabato, Meggiorini squalificato e quindi Ventura dovrà scegliere uno tra Castillo che sta accelerando la preparazione per farsi trovare pronto e lo stesso Greco, minori possibilità per Sforsini che come si sa non gioca dalla seconda partita di campionato. Torna in lizza per una maglia da titolare anche Alessandro Gazzi al centro che potrebbe sostituire uno tra Donati e al Miron, ricordiamo che c'è un problema, è un rischio giallo, il problema di fida per quattro giocatori del Bari, Barreto, Bonucci, lo stesso Donati e mentre appunto Meggiorini è stato già squalificato è lo stesso Al Miron che appunto rientrato dalla squalifica è rimasto in diffida. Apriamo la pagina degli altri sport molto rapidamente perché il campionato di serie B dilettanti di basket, il Cusbari, la chimica d'Agostino Cusbari reduce dalla mara sconfitta in casa con l'Ambrosia Bisceglie, gara che ha perso di appena due punti sul filo di lana davvero, avrebbe meritato la vittoria, noi ve l'abbiamo proposta lunedì scorso alle 15.30 il consueto orario della chimica d'Agostino Cusbari sulle frequenze di Telebari, si prepara ad affrontare la sfida di domenica ancora al Palacusco, la Viola Reggio Calabria, una nobile decaduta del basket italiano che si presenterà al Palacusco, un ex giocatore di serie A Nicolai e il tecnico ex Teramo anche lui di serie A Massimo Bianchi, quindi una sfida da non perdere, noi ve la proporremo qui su Telebari sempre lunedì alle 15.30, per quel che riguarda invece la palla a volo c'è un appuntamento importante nel weekend per l'Atletico Club Bari, il campionato di serie B2 si ferma perché c'è la Coppa Italia e proprio il Palazzetto di Carbonara ospiterà una delle Final Four dove la squadra di casa, l'Atletico Club Bari, Gaeta, Giarratana e Lauria si giocheranno un posto per le Final Four della Coppa Italia di categoria, quindi un appuntamento importante, si comincia sabato al Palazzetto di Carbonara alle ore 18.00 e con questa notizia possiamo andare in chiusura, io vi ricordo dopo di noi ci sarà la replica di ieri del Bianco e Rosso TB Sport, ci teniamo pronti ad aggiornare la replica serale laddove ci fossero delle importanti, in giornata delle importanti notizie di mercato, arrivederci, a domani e grazie di essere stati con noi.